Siamo con Mr. Russo dopo la vittoria per 5-0 della Giardinetti Carabatella sull'Atletico Genazzano. Allora Mr. all'andata era stata una partita molto ostica, oggi invece in scioltezza l'avete già chiusa nei primi 20 minuti andando sul 3-0. Sì, abbiamo migliorato sicuramente noi a livello di squadra, quello che dicevo le prime giornate, la difficoltà che aveva la squadra era il gruppo, ora abbiamo trovato finalmente il gruppo e spero di andare avanti così. Ecco ovviamente ora con la qualifica della Roma Ottava per i fatti accaduti in semifinale Coppa Lazio cambia ovviamente lo scenario, in classifica avete un vantaggio consistente da gestire e mantenere nelle ultime 6 giornate? Questo mentalmente ci può danneggiare, quindi per noi la Roma Ottava dobbiamo vederla a 56 punti e noi dobbiamo pensare a vincerle tutte, tutte per dimostrare che eravamo i migliori nel campionato. Ecco con una rosa di qualità e anche molto profonda siete riusciti ad arrivare in fondo anche in Coppa Lazio, c'è la possibilità di questo double, le chiedo un giudizio sull'avversario anche che affronterete, la nuova pescia romana? Beh allora innanzitutto per la rosa devo fare i complimenti al direttore sportivo Daniele Sartacci che ha saputo lavorare benissimo e oggi vediamo i frutti del suo lavoro. Riguardo la Coppa dobbiamo vedere il pesce romana, personalmente non la conosco, la sto seguendo da tre settimane e ora vediamo un attimino come preparare al meglio quella partita.